Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti alla sede dell'ufficio scolastico provinciale. Un gruppo di genitori degli alunni della scuola primaria Lombardo Radice ha deciso di manifestare così il proprio malcontento di fronte all'ipotesi di accorpamento di alcune classi. Dopo i disagi di due anni di pandemia, i genitori hanno criticato la scelta ventilata dal dirigente del comprensivo e si sono rivolti direttamente al provveditorato. La dirigente Donatella Buonriposi stamani ha ricevuto una loro delegazione e ha promesso di impegnarsi per trovare una soluzione insieme al preside Giovanni Testa.